Benvenuti a tutti e soprattutto a tutte un paio di minuti giusto per raccontarvi qualche novità anche perché ci siamo lasciati da Riccione dove avevo appena finito la registrazione del video di Bring Back The Good Times, l'ultimo singolo e stavolta vorrei parlare però di evoluzione della disco del funky e cioè House Music e cioè praticamente una musica che è fatta d'impatto, di energia e di grande voglia di ballare perché essendo l'evoluzione del disco del funky e tra le altre cose stavolta anche le riprese che abbiamo fatto sono in un stile totalmente diverso dalle precedenti edizioni dei video clip che ho fatto con un team old school se vogliamo e anche new school e comunque vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato fino ad oggi con me tutti quanti, massimo rispetto, è stato veramente un'avventura incredibile, sicuramente ci sarà modo di ricollaborare con alcuni di loro non c'è alcun problema, l'unica cosa è che lì malgrado tutte le proposte che abbiamo ricevuto io ho optato per l'uscita di questo singolo in primis perché questo qua è proprio una cosa sentita e che doveva uscire proprio ora è una cosa che poi vi spiegherò con altri interventi comunque quello che volevo dire è che praticamente tra poco ne sentirete delle belle perché praticamente noi usciremo con un nuovo singolo quindi a presto, see ya!